Ciao a tutti, buonasera. Mi sentite? Ok. Buonasera, grazie per essere qui. Io sono Raffaella Rossi e questa sera modero questo bellissimo evento, il primo di un ciclo di incontri che insomma speriamo che continui anche nei prossimi mesi in cui parleremo soprattutto di Open Data. Questa sera siamo qui con il professor Piero Boccardo che ringrazio per la sua presenza e come vi ho detto questo ciclo di incontri ha lo scopo di focalizzarci sugli Open Data e come riusciamo a leggere la realtà grazie appunto a questi dati così sensibili e così preziosi per noi. Questa sera il nostro focus non potrebbe essere più attuale. Tutto ok? Ok. Questa sera dicevo il focus non potrebbe essere più attuale perché parliamo di Ucraina e quindi ci focalizziamo su come gli Open Data possono aiutarci a leggere la natura del conflitto e insomma a capirlo, a interpretare quello che succede in maniera migliore. Prima di iniziare mi sembra vogliamo fare due parole sullo strumento che ci consente di raccogliere questi dati e di poterli sfruttare nel migliore dei modi. Certo, grazie Raffaella. Saluto tutti ovviamente, tutti quelli che sono presenti, grazie per essere venuti. Cominceremo questa presentazione facendo vedere un breve video che ci mostra fondamentalmente come funzioni il progetto Copernico, se in particolare tutta la parte upstream, cioè i satelliti e la parte downstream che riguarda poi l'utilizzo di dati e poi faremo vedere fondamentalmente immagini iconografiche, quindi fondamentalmente immagini, cartografie con pochissime cose scritte giusto per dare un focus, in cui io mi asterrò da qualsiasi interpretazione, cioè oppure mie idee personale, nel senso che ciò che vogliamo veicolare è il fatto che è possibile accedere a questi dati e avere, farsi una propria idea di quello che sta succedendo. Perfetto, allora direi che partiamo con il video, se ce l'abbiamo, eccoci. Viviamo in un mondo caratterizzato dai mani sfide ambientali. Dobbiamo cercare di contrastare gli effetti del surriscaldamento globale, i problemi dovuti all'aumento demografico, al consumo eccessivo e all'esaurimento delle risorse naturali. Come possiamo gestire al meglio il consumo e l'impiego delle risorse naturali, proteggendo. Per rispondere a questa e ad altre domande, dobbiamo essere consapevoli delle condizioni e della salute del nostro pianeta. Il programma Copernicus ci aiuta a raggiungere questo obiettivo, monitorando l'ambiente, raccogliendo e archiviando dati e può offrendo prodotti che consentano di adottare decisioni efficaci. Organizzato da diversi attori indipendenti dell'Unione Europea, il programma Copernicus monitora la Terra e i suoi diversi ecosistemi, garantendo al tempo stesso ai cittadini preparazione e protezione in caso di crisi e catastrofi naturali o provocate dall'uomo. I servizi di informazione Copernicus si fondano su dati provenienti da una costellazione di sei famiglie di satelliti, chiamati Sentinels, e da decine di altri satelliti, noti come missioni partecipanti. Questi dispositivi di misurazione in orbita a volte operano autonomamente, altre volte in combinazione con sensori posizionati in mare, a terra oppure in aria. Copernicus archivia i dati e contribuisce a fornire grandi quantità di informazioni affidabili e aggiornate sulle condizioni del pianeta. Tali dati possono essere impiegati per realizzare diversi prodotti, come statistiche e mappe topografiche. I dati sono analizzati in modo da generare indicatori utili ai ricercatori e agli utenti finali, fornendo informazioni sulle tendenze passate, presenti e future. Copernicus contribuisce non solo all'eccellenza scientifica e tecnica europea, ma fa parte di un servizio pubblico, consentendo l'accesso libero, gratuito e completo a tutti i dati raccolti. Tutti, scienziati, politici, imprenditori e cittadini comuni, possono utilizzare questi dati. Le missioni Copernicus comprendono anche temi essenziali interconnessi, con sei tipologie di servizi. Monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamento climatico, gestione delle emergenze e sicurezza, che si traducono in aree di applicazione concrete ed efficaci. Per quanto riguarda l'ambiente, Copernicus rileva il contenuto di aerosol che distrugge lo strato di ozono, analizzando la composizione e la biodiversità atmosferica. Valuta regolarmente lo scioglimento della calotta polare artica, causato dalle temperature crescenti dovute al surriscaldamento globale. Determina la qualità dell'aria e dell'acqua che si ripercuote sulla nostra salute. Monitora i livelli oceanici, le aree costiere e le foreste, onde limitare i danni connessi al rischio di terremoti, inondazioni e incendi per garantire la nostra sicurezza. Nel settore energetico, Copernicus promuove l'uso di centrali idrauliche ed eoliche, promettendo alternative pulite, ecocompatibili ai combustibili fossili. In tal modo, l'energia rinnovabile potrà rappresentare il 27% del nostro consumo energetico totale entro il 2030. Copernicus sostiene anche il monitoraggio delle frontiere esterne dell'Unione Europea, impiegando dati spaziali uniti ad altre fonti di informazione, per aumentare la consapevolezza e migliorare la valutazione dei rischi lungo le frontiere esterne. A servizio del mondo marino, Copernicus rileva l'inquinamento marino che colpisce gli ecosistemi acquatici e la pesca. Nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo, Copernicus rileva i primi segnali di deforestazione e desertificazione, al fine di evitare la perdita di biodiversità e carenze alimentari. Supervisiona l'irrigazione dei campi e monitora le colture per una migliore gestione alimentare. Copernicus contribuisce anche a localizzare i focolai di epidemie, come quella di Ebola, nell'Africa occidentale. Oltre a questi esempi, Copernicus può contribuire al turismo, allo sviluppo urbano, all'archeologia, al settore degli idrocarburi assicurativo. Si tratta di uno strumento incredibile, in costante evoluzione, aperto a tutti e gratuito, oggi e per sempre. È uno strumento per creare nuove applicazioni, nuove opportunità, nuovi mercati, nuovi posti di lavoro. Secondo studi indipendenti, entro il 2030 l'attuazione di questo programma potrebbe creare quasi 48 mila posti di lavoro. E perché no? Decine di migliaia di utenti già utilizzano i dati accessibili gratuitamente. Con la consapevolezza che ogni euro investito nella tecnologia satellitare produce un elevato rendimento, il numero di opportunità aziendali è destinato ad aumentare nei prossimi anni. ci avviciniamo a nuovi orizzonti, qui sulla terra e nello spazio. Ok, direi che abbiamo visto questo video evocativo, giusto per capire quali sono gli strumenti che vogliamo utilizzare. Sì, questa sera facciamo un passo in avanti, vediamo come questi dati ci aiutano a capire la realtà in cui viviamo. Prima di passare alla pura attualità, cioè parlare del conflitto direttamente, vorrei fare un passo indietro, cioè parlare di che cos'è l'Ucraina, perché voglio dire che per molti di noi questo conflitto è arrivato, non voglio dire dal nulla, però magari non sapevamo moltissimo di questo paese che pure alla fine non è così lontano da noi. Quindi, cosa sappiamo dell'Ucraina, in poche parole? Come ci aiutano i dati a capire perché è importante questo paese dal punto di vista geopolitico? Cerchiamo di rispondere a questa domanda, cioè quindi cosa sappiamo fondamentalmente dell'Ucraina e cosa c'è nel nostro immaginario di un paese che fino a poco tempo fa, di cui sapevamo veramente poco. Allora, la prima cosa che sicuramente dobbiamo prendere in considerazione è il fatto che l'Ucraina è un grande paese. Se lo vediamo sovrapposto per esempio nelle giuste proiezioni cartografiche alla parte europea, vedete che è un paese che se fosse in un'Unione Europea sarebbe sicuramente il paese più grande, di cui giusto per farvi capire, vedete che la parte della Crimea è grande almeno come il Piemonte, più la Liguria e la Valle d'Aosta, così come invece il Donbass è grande come la Svizzera, per cui stiamo parlando di un paese estremamente grande, le cui frontiere sono molto estese e questo è sicuramente un qualcosa di cui tenere in considerazione. Se parliamo poi di come questo paese sia fatto, che non è assolutamente secondario, vediamo che l'Ucraina fondamentalmente, in questa carta sinistra vediamo la parte del Donbass che vedete è veramente molto ridotta e quindi ci possiamo cominciare a chiedere il perché venga considerata così importante. L'Ucraina è un paese, la cui capitale come sapete è Kiev, contraddistinta da poche grandi città, da questa sua posizione strategica dal punto di vista soprattutto degli affacci al mare, perché sta sul Mar Dazov e sul Mar Nero. Dal punto di vista invece orografico, e anche questo non è una roba banale, l'Ucraina fondamentalmente è un paese molto piatto, una grande piana alluvionale che è la confluenza e il delta dei molti sistemi fluviali russi, che garantisce il fatto che a parte la parte a est che confina con la Moldavia e che l'Ucraina sia fondamentalmente estremamente piatta, come vedete in questa rappresentazione geografica tipica di una cartografia fisica. Se guardiamo appunto quindi un modello, quello che noi chiamiamo modello digitale di elevazione, cioè per capire quali siano le orografie del territorio, vedete che fondamentalmente c'è tutta questa piana molto bassa e a cui corrispondono solamente questi sistemi montagnosi in cui, che vedete, sono dalla parte a ovest di Liv, dietro la Moldavia e poi c'è questa piccolissima parte sulla Crimea che è montuosa, che sta sul mare. Poi vedete che è una fondamentalmente estremamente piana e una zona collinare. Allora, se dovessimo parlare della popolazione e come questa popolazione si distribuisce, questi sono tutti i dati open che ho estratto, la distribuzione della popolazione per classe di età è una popolazione, vedete, è una distribuzione tipicamente di un mondo occidentale, poche persone giovani, molte di mezza età, pochissimi, un certo numero vecchie, mentre invece quel cartogramma che vedete a destra, che ovviamente è deformato, ci mostra come la popolazione sia distribuita geograficamente. Quindi vedete che a parte Kiev, che è una città relativamente grande, di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, e la parte di Kharkiv, Donetsk e la parte del Donbass, fondamentalmente vedete che tutti quei pallini fanno intravedere il fatto che la popolazione si distribuisce in zone fondamentalmente rurali, perché questa è la caratteristica dell'Ucraina, pur essendo un grande paese, sono poche le grandi città, quindi fondamentalmente si disperde lungo questa superficie. Queste sono le uniche cose scritte che metterò e che secondo me sono abbastanza evocative rispetto a cosa rappresenta l'Ucraina e perché è così importante. L'Ucraina fondamentalmente quindi è un grande paese agricolo, che vedete, è prima in Europa per la superficie asseminativa, che è la prima al mondo nell'esportazione di girasole e olio di girasole, che non è una cosa assolutamente banale, seconda al mondo nella produzione di orzo e quarta per l'esportazione di orzo, la terza per il mais, la quarto produttore mondiale di patate, il quinto produttore di segale, l'ottavo per l'esportazione di grano, poi paradossalmente vedete alla fine è il nono produttore al mondo per l'uova di gallina e il sedicesimo, per noi che siamo italiani è un po' paradossale, al mondo per l'esportazione di formaggi, per cui vedete che fondamentalmente ha una grossa produzione agricola. Ma soprattutto l'Ucraina è particolarmente importante per questi aspetti, perché fondamentalmente ha delle riserve minerarie estremamente importanti, perché in Europa è sicuramente la prima rispetto alle risorse recuperabili di uranio, la seconda in Europa è legge va al mondo per quanto riguarda il titanio, per quanto riguarda il manganese, il minerale di ferro, vedete il mercurio, il gas, cioè quello che viene fondamentalmente estratto da depositi di natura organica e il quarto al mondo per valore totale di risorse naturali e il settimo per risorse di carbone, questa è una cosa importante. Ma d'altra parte l'Ucraina è anche estremamente importante come paese industriale, cioè per esempio vedete in Europa è il quarto al mondo a sistema di gasdotti, poi vedremo e in una prossima incontro qualcuno parlerà per voi del sistema di approvvigionamento energetico estremamente interessante, vedete è il terzo in Europa per quanto riguarda i centrali nucleari, anche questo non è un aspetto assolutamente secondario, è un paese in cui avete letto in questo momento la rete ferroviaria sta giocando un ruolo estremamente importante perché è molto estesa nel paese, anche dovuto al fatto che il paese è abbastanza grande ma molto regolare come superficie diverso dall'Italia, questo è un aspetto molto particolare che poi capirete dopo il perché è importante, è il terzo paese al mondo per la produzione di localizzatori satellitari, cioè tutti i localizzatori che usano GPS, la Ucraina ha una grandissima esperienza, una grandissima tradizione nella produzione, esporta ferro, turbine e centrali nucleari ma anche Langerazzi produce argilla, minerali, è uno dei maggiori paesi che è importante per l'industria della difesa ed è uno dei più importanti produttori di acciaio al mondo. Se guardiamo quindi alla fine questi dati e vediamo come le esportazioni dell'Ucraina si muovono, vedete che alla fine la maggior parte delle cose che l'Ucraina esporta sono riferite a cereali, ferro e acciaio piuttosto che animali e altre cose, ma malgrado questa ricchezza di risorse se parliamo delle importazioni vedete che alla fine importano petrolio che è una roba un po' paradossale di cui poi si parlerà più avanti, così come vedete importano un sacco di prodotti industriali che non sono in grado di autoprodursi, tra cui le auto e tutte le cose per la casa eccetera eccetera, piuttosto che macchine elettriche o prodotti farmaceutici, perché per esempio in Ucraina non c'è una grande industria farmaceutica e quindi importano. E la cosa estremamente importante che ci fa capire molte cose, questo è un altro dato assolutamente pubblico, se vediamo qual è il trade off tra importazione e esportazione vedete subito chi è il maggiore elemento, cioè la Cina è di gran lunga il maggiore importatore ed esportatore di materie a cui seguono vedete la Germania, la Polonia, vedete che la Russia non ha proprio questo grandissimo ruolo che non è poi dissimile dal ruolo che ha l'Italia, per cui in realtà l'Ucraina ha sviluppato un sistema di esportazione e importazione che fondamentalmente è legato alla Cina perché sta sulla rotta relativa alla via della seta e quindi fondamentalmente è un posto chiave per la Cina soprattutto perché sta sul Mar Nero. A questo punto cominciamo a vedere dei dati, questi sono dei dati che vengono estratti da questi satelliti che abbiamo visto prima in cui ci fanno vedere per esempio le coperture del suolo a livello globale, voi vedete che tutta quest'area arancione, giusto per avere un confronto, e scusate viola, è l'area asseminativo, guardate rispetto all'Italia, l'Italia vedete che ha quella parte della pianura padana, guardate cosa vuol dire la superficie dell'Ucraina, cioè la superficie dell'Ucraina è circa 10 volte rispetto a quella italiana ed è per questo che producono così tanto, per cui vedete se noi guardiamo quali sono i seminativi dell'Ucraina ci accorgiamo che tutta l'Ucraina è completamente seminata a parte delle parti periferiche in cui ci sono ancora dei boschi residui, sistema fluviale eccetera eccetera, però vedete che quando si dice il granaglio del mondo è vero, cioè almeno in Europa è sicuramente quest'area dell'Ucraina nella parte a sud dell'Unione della Russia e fondamentalmente sono le zone più agricole che esistano dal punto di vista europeo. Questa è una cosa che ho fatto anche vedere perché mi diletto a far vedere su Instagram queste immagini, questi sono dei dati dinamici che vengono scaricati dai satelliti in cui, qui siamo in prossimità di Kiev, vengono estratte queste immagini che tutti possiamo scaricare e utilizziamo questi timelapse per vedere queste sequenze, considerate queste sono immagini particolari in cui in rosso si vedono i dati acquisiti da una banda dell'infrarosso termico, scusate vicino di questo satellite, in cui tutto ciò che è rosso è vegetazione e qua vediamo i cicli fenologici di questi che vedete sono sicuramente campi coltivati in cui avete in alto a destra la data, qua vedete siamo in piena stagione di ciclo fenologico attivo, vedete che adesso tra un po' arriverà la neve durante l'inverno, poi si ricomincia a seminare e il ciclo riprosegue come in tutte le zone agricole per farvi capire che l'Ucraina è praticamente tutta così, per cui anche il fatto che adesso non si stia coltivando creerà dei problemi nei prossimi anni per riavere gli stock di cose che vengono importate. Questa è un'altra carta che vi fa vedere per esempio la presenza di risorse minerarie nell'Ucraina, in cui vedete c'è praticamente qualsiasi cosa, quindi vedete andiamo dai minerali particolari, ferro piuttosto che uranio, piuttosto che come dicevamo prima trasformazioni tra cui tungsteno eccetera eccetera, ma in Ucraina veramente c'è ogni ben di Dio da questo punto di vista e come vedete adesso cominciamo a focalizzarci, visto che questa è una cartografia tematica in cui toni scuri implicano maggiori concentrazioni vedete che ci stiamo spostando ad est, quindi per quanto riguarda tutte le risorse minerarie molte di queste risorse minerarie sono concentrate nel Donbass e non è un caso questo. Allora questa è una cosa estremamente interessante, anche questa arriva da dati assolutamente pubblici di cui poi parlerà Giovanni De Santi che è qua davanti nella prossima incontro che avremo che riguarderà proprio le risorse fondamentalmente energetiche, questa è la rete dei gasdotti e oleodotti che passa dall'Europa orientale e va verso l'Europa. A destra quello che è particolarmente secondo me interessante è questa rappresentazione molto evocativa e dendrografica in cui partiamo da questo sistema di gasdotti e oleodotti che è rappresentato come se fossero delle radici che arrivano dalla Siberia centrale in cui c'è la maggior parte di estrazione, vedete si diramano lungo l'Europa e si distribuiscono tutta l'Europa e vedete che l'Ucraina è sempre lì sotto e l'Ucraina è il posto in cui c'è la maggiore concentrazione di gasdotti ed oleodotti. Quindi appunto abbiamo visto dai dati, dalle mappe, dalle carte un boccone abbastanza ricco perché appunto è come abbiamo detto granaio del mondo, materie prime, ma il passo successivo è abbiamo appunto visto che c'è tra l'altro una grossa concentrazione di risorse minerali nel Donbass, nella zona più contesa se vogliamo con la Russia, ma come riusciamo ad utilizzare per esempio gli Open Data per leggere il conflitto? Qual è il passo successivo per capire la realtà? Come capiamo qual è l'interesse della Russia in questo conflitto e come ci aiutano gli Open Data a capirlo? Ok, allora se noi quindi dovessimo pensare a come utilizzare gli Open Data per avere un'idea che potrebbe anche essere diversa da quella che ci viene raccontata in questo momento dei media per documentare ciò che sta succedendo, che cosa potremmo utilizzare? Allora queste sono due immagini che secondo me sono estremamente interessanti, che sono due cartografie più o meno sovrapponibili, come vedete sono in russo, queste sono fondamentalmente le zone linguistiche, cioè quindi vedete in tutta la zona rossa fondamentalmente c'è una forte cultura in lingua ucraina, nell'altra parte in giallo e nelle varie tonalità ci sono le zone fondamentalmente russofone, eccetto poi quella parte in alto che è a metà tra le due, che è una zona di confine in cui si parlano entrambe le lingue. Allora questa, guardatela, ve le faccio vedere una di seguito all'altra, vedete che si sovrappongono perfettamente, questa è una cartografia secondo me geniale, che mostra i risultati delle elezioni, di una delle ultime elezioni prima che arrivasse l'ultimo presidente ucraino, in cui l'Ucraina viene divisa in due toponimi addirittura diversi, quella che viene chiamata in giallo l'Ucraina, che vota il rappresentante e il candidato presidenziale ucraino, mentre invece quella che viene chiamata sotto con quella R al rovescio, Yakrain, che invece vota il rappresentante russo. E vedete che questa divisione è assolutamente netta, cioè quindi fondamentalmente c'è una forte influenza russa nel sud o nel sud-est che corrisponde, ve lo faccio ancora rivedere, alle zone linguistiche fondamentalmente e c'è tutta l'altra zona ucraina, per cui fondamentalmente c'è questa divisione in due di cui io non commento, se non il fatto che queste due carte, vedete, siano fondamentalmente sovrapponibili. Allora, se dovessimo rappresentare che cosa succede durante la guerra, ovviamente non vi farò vedere le immagini che abbiamo visto stasera rispetto a ciò che si è visto delle fosse comuni, perché non mi pare assolutamente il caso di spettacolarizzare in questo modo, però in queste due carte, vedete, a sinistra, questa è una situazione pre-conflitto, in cui si vedeva la zona del Donbass, in cui in giallo c'era la zona fondamentalmente controllata dagli ucraini e in rosso, arancione, diciamo in questo tono di rosso leggero, la zona controllata dai russi, con tutte quelle macchie blu piuttosto che rosse, che sono i centri abitati legati e controllati dalle due fazioni diverse. Questo era quello che è successo prima e questo è come si è sviluppato il conflitto, in cui risulta abbastanza chiaro che i russi, come abbiamo visto anche adesso, che si stanno ritirando dal nord, non sono così interessati ad andare a Kiev, cioè non sembra quello sia l'interesse fondamentale, ma l'interesse sia fondamentalmente quello di controllare la zona costiera, in particolare il Mar Dazzov, che sta lì in quella forza dove c'è Mariupol, e poi soprattutto cercare di estendere il controllo più a ovest, soprattutto dove c'è Odessa, sul Mar Nero, perché lì ci sono dei porti estremamente interessanti, commerciali, su cui c'è un sacco di traffico. Tutte queste città, vedete, almeno finalmente le piazziamo, hanno delle posizioni ben precise, Donetsk e Luhansk, che sono le due province che si tendono e che probabilmente forse diventeranno autonome, Zaporizia, su cui c'è un corridoio umanitario, e tutte le altre città, Kherson, Meltipol, eccetera, che in questo momento sono oggette anche di bombardamenti. Questo è quello che noi potremmo scaricare e che tutti possono fare, cioè immagini da satellite, questa vedete è un'immagine sull'Ucraina che ci mostra, a colori reali, così come se fossimo a bordo dei satellite, come si presenta questa zona. Quindi vedete una zona fondamentalmente dell'Europa dell'Est, relativamente piatta in questo caso, con questo colore marrone che ci fa presagire il fatto che questi siano suoli nudi, che stanno per essere seminati. Queste sono immagini che sono state veramente acquisite pochissimi giorni fa. Queste invece sono immagini un po' più inquietanti, perché questa qui è una delle centrali nucleari e non è la centrale nucleare più famosa che tutti conosciamo, ma è un'altra centrale nucleare di cui vedete questo è come viene rappresentata, come viene acquisita la satellite e questo è un esempio preso da Google Earth. Altri dati che sono assolutamente disponibili in cui vediamo questa centrale nucleare, così come che è una delle più grandi d'Europa, in cui, attenzione, non fatevi traviare dal fumo, sono fumi di scarico, non è stata bombardata, non è successo nulla in questa immagine, perché anche perché pre-guerra, non è qualcosa che è successo dopo. Così come invece questa è un'immagine abbastanza evocativa che ho anche pubblicato su Instagram, in cui di nuovo in rosso c'è sempre la vegetazione, perché sono bande l'infrarosso vicine, questa è la zona di Kherson, che vedete lì, c'è questo sistema fluviale, vedete in cui c'è questo grosso delta. Questa è una zona estremamente interessante e strategica, Kherson la continuiamo a sentire nominare, perché per i russi è molto importante, perché è una zona strategica, perché questo è un porto naturale estremamente interessante, perché al di là di quel bacino naturale che si crea sul delta del fiume, poi si entra direttamente nel Mar Nero, quindi sicuramente è una zona estremamente interessante. Allora queste sono le immagini che abbiamo già visto e sono quelle che derivano da questi satelliti che vengono chiamati i contributing mission del programma Copernicus ad alta risoluzione, che non sono open data, cioè questi dati vengono commercializzati da provider commerciali, per cui fondamentalmente costano e bisogna comprarli. Questa è la prima cosa che abbiamo tutti visto, che era questa colonna di 60 chilometri di mezzi russi che stava entrando dalla Bielorussia in Ucraina, che è stata fondamentalmente la cosa che fondamentalmente ha preoccupato tutti. Così come queste sono artiglierie sovietiche che tre giorni fa stavano sparando verso Kiev, che vedete vengono identificate dal satellite, ma è ovvio perché sul satellite si può vedere tutto, nulla può essere nascosto, l'unica cosa che può nascondere queste cose sono le nuvole in questo caso, se il cielo è sgombro da nuvole i satelliti acquisiranno, non si vedrà e questo ovviamente può essere utile anche per chi cerca di difendersi o per chi cerca di documentare questa situazione. Piuttosto che vedete, questo è Mario Paul, sono gli effetti dei bombardamenti e di quello che sta succedendo, in cui vedete la risoluzione. Considerate che questi satelliti acquisiscono la 700 chilometri di quota, riusciamo ad arrivare a precisioni submetriche, cioè riusciamo a vedere oggetti più piccoli di un metro, senza alcuna censura preventiva, nel senso che i dati sono disponibili, in questo caso se uno li vuole comprare li può comprare, oppure se i giornali li vogliono pubblicare li possono pubblicare. E queste vedete, destra e sinistra, un aeroporto che c'è in prossimità di Kiev prima e dopo, perché ovviamente i russi hanno bombardato subito gli aeroporti per cercare di fondamentalmente bloccare tutta la forza aerea russa e ucraina a terra in modo da poter avere fondamentalmente un dominio di cieli e poter fare le loro missioni. Allora, qua invece ci sono delle cose che io condivido, è un interesse in alcuni casi morboso, che io condivido anche con la Presidente del Circo dei Lettori, perché questa è un'immagine abbastanza inquietante che risale all'inizio di marzo, in cui davanti a Odessa venivano documentate in queste immagini il fatto che ci fossero delle navi russe da guerra in Rada, che erano assolutamente ferme e continuano ad arrivare a rimanere ferme, se non ogni tanto bombardare la città. Per cui io mi sono chiesto, queste navi si vedono e sono andato a cercarle in questa piattaforma. Questa è una piattaforma, come ne esistono tante, che si chiama Bessel Finder, in cui ogni singola nave deve lanciare un segnale GPS per farsi riconoscere e per farsi posizionare, che serve per gestire il traffico navale. Ovviamente tutte le navi generalmente lo fanno, vedete che ovviamente queste navi militari non lo facevano assolutamente, perché questa è assolutamente coeva a quell'immagine, davanti a Odessa non c'è alcuna nave, attenzione che questa è una zona molto battuta dal traffico marittimo. Per cui ci siamo chiesti, ma in realtà queste robe si vedono dal satellite, queste navi sono davvero in Rada? Allora abbiamo preso un'immagine molto particolare, sempre di Sentinel, questa è un'immagine radar, in cui vedete ci sono dei puntini azzurri, delle linee, delle cose, dei semini azzurri che vedete. Sì, delle linee forse, si vedono un po' più. Queste sono esattamente quelle navi che si vedevano in Rada, per cui questo satellite su cui si vede tutto fondamentalmente ci dimostra che quelle navi erano lì, seppure loro non segnalassero, per ovvie ragioni, la loro posizione. Questo è un esempio, e mentre questo invece c'è l'esempio che a me colpisce sempre, questa è una delle tante piattaforme che esiste, identica a quella delle navi, che si chiama Flight Radar, e serve fondamentalmente per monitorare il traffico aereo, perché ogni aereo manda un segnale che serve per identificarlo e per verificare dove vada. Questa è una piattaforma assolutamente pubblica, chiunque può entrare. Questo è quello che succedeva due giorni dopo che i russi entrassero, vedete, c'è fondamentalmente una no-fly zone. Sull'Ucraina non vola assolutamente nulla, vedete il traffico che c'è tutto intorno all'Ucraina, di voli che vanno, vengono dagli vari stati e che si tengono debitamente alla larga dall'Ucraina. E questa secondo me è abbastanza evocativa, non vi faccio vedere un filmato, ma si vedrebbero tutti gli aerei che si muovono come dei pazzi, che girano intorno, ma nessuno va sullo spazio aereo ucraino. Io mi sono anche divertito perché ho un po' questa fobia, vado a cercare queste robe che poi pubblico, sono un po' noioso, i miei studenti lo sanno, c'è qualcuno qua che è venuto a sentirmi. Allora, queste due immagini sono delle due immagini abbastanza interessanti. Quella a destra, vedete, sono le tracce di volo di un aereo particolare che si chiama Forte 1, che tutti quelli che hanno questa mia fobia di cercare quegli aerei conoscono benissimo, vedete in cui che un aereo che arriva da sud e comincia ad andare avanti e indietro, in quel caso era veramente i primi giorni, vedete c'è Dnipro e siamo verso Kharkiv, sta volando continuamente avanti e indietro lungo il confine ucraino, russo. Allora, Forte 1, anzi Forte 11, è un drone molto grande che parte da Sigonella, cioè dalla Sicilia, sulla base americana, che noi ospitiamo essendo membri della Nato, è un aereo fondamentalmente, non dovete pensare ai droni che sganciano bombe in questo momento, perché è un aereo che ha imbarcato a bordo tutta una serie di sensori che consentono di acquisire immagini ad alta risoluzione, modelli digitali del terreno e quindi vedete che sta eseguendo la sua missione, cioè nel momento in cui i russi entrano comincia a monitorare l'andamento delle truppe. Forte 11 e Forte 12, che sono due droni con una grossissima capacità, una grandissima autonomia, viaggiano per migliaia di chilometri, hanno continuato per tutto questo tempo a acquisire dati, ovviamente stando rigorosamente nello spazio aereo ucraino, perché se solo andassero in quello russo succederebbe, come potete immaginare, dei grossi problemi. Invece l'altro, questo TCATG è una roba che ho documentato subito, perché a un certo punto ho visto che partiva quest'aereo da Mosca e a un certo punto volava sopra la Bielorussia. Di per sé nulla di strano, perché la Russia e la Bielorussia continuavano a mantenere collegamenti aerei. A un certo punto però mi sono inquietato, perché l'ho visto volare sopra la Lituania. Questo succedeva circa due settimane fa. E mi sono chiesto, e l'ho anche scritto in Instagram, dove sta andando quest'aereo, perché teoricamente non doveva essere lì. A un certo punto l'ho inseguito e continuava ad andare, è sceso, fino a che a un certo punto ho capito dove veramente andasse, perché stava andando ad Antalya, in Turchia, dove dopo due giorni ci sono stati i primi colloqui di pace e fondamentalmente immagino che su quell'aereo che batteva bandiera turca, che aveva avuto un permesso per partire da Mosca e passare sopra gli altri paesi, c'erano probabilmente gli Sherpa, cioè quelli che stavano organizzando il primo dialogo che sapete è stato fatto, i primi sono stati fatti in Bielorussia, poi si è spostati in Turchia, adesso a Istanbul, in cui si cominciava a parlare e questa è stata la primissima volta che si sono incontrati a Minsk. Sembra quasi che con un po' di applicazione e di curiosità si possa seguire il conflitto in prima persona, avere informazioni di prima mano, è super interessante, quindi ovviamente seguite il professore anche su Instagram se non lo fate, perché invece io trovo molto interessanti le storie post. Nell'ultima parte volevamo focalizzarci su quelli che sono le conseguenze che lascerà il conflitto, perché sappiamo che in Ucraina prima dell'invasione c'erano già una serie di problemi legati per esempio a questioni ambientali, di inquinamento e quindi la mia ultima suggestione, l'ultima domanda è appunto questa, quali saranno le conseguenze di questo conflitto? Non sono facilmente prevedibili, però alcune cose sicuramente possiamo affermarle con abbastanza certezza rispetto a quello che è stato già documentato e che sarà sicuramente ancora più impattante. Quindi quali saranno le legacy, quale sarà l'eredità di questo conflitto? Allora questo è un documento che potete trovare in internet che è stato prodotto intorno al 2020 durante il lockdown, in cui l'immagine è molto evocativa, c'è questo signore abbastanza in carne che sta facendo il bagno davanti a una centrale nucleare, in cui si parla, questo è fatto fondamentalmente da ucraini, per cui non è un documento, è fatto fondamentalmente da un paio di università ucraine, in cui si parla di inquinamento dell'aria in Ucraina e in cui vedete molto brevemente, se volessimo rappresentarlo iconograficamente, questi sono per esempio degli impianti minerari che ci sono nella regione del Donbass, questi idem, vedete qual è in queste foto, qual è l'impatto di questo tipo di impianti, così come discariche legate proprio anche poi a linee di trasmissione di produzione energetica. Questi sono i dati che vengono acquisiti da questi satelliti, perché da questi satelliti c'è neanche uno che è molto particolare, che si chiama Sentinel-5P, che acquisisce colonne d'aria e quindi ci dà la concentrazione di particolari molecole e composti chimici in sospensione all'annosfera. Questa per esempio è la concentrazione di CO2 che c'è lungo l'Ucraina, in cui vedete, di nuovo è un tematismo in cui i colori più intensi rappresentano maggiori concentrazioni e vedete che queste concentrazioni tipicamente sono sulle grandi città, ovviamente, nel senso che è lì dove si distribuiscono le principali attività industriali. Anche in Italia è esattamente così, cioè la pianura padana appare molto scura rispetto a tutte le altre zone, per cui di qua non c'è molto di diverso. Però quando andiamo, per esempio, a vedere qual è la concentrazione della NO2, vedete che, a parte Kiev, tutto si concentra nella zona del Donbass, perché il Donbass è la regione industrializzata fondamentalmente dell'Ucraina, in cui vedete che le condizioni di emissione in atmosfera in quella zona sono particolarmente importanti e si estendono anche imparzialmente sul confine della Russia, in cui queste condizioni sono condizioni su cui porre l'attenzione, perché sono condizioni abbastanza pesanti che possono causare per lunghe esposizioni anche danni alla salute. Così come l'anidride solforosa, vedete, l'Ucraina è un paese abbastanza virtuoso, visto che l'anidride solforosa è fondamentalmente deriva da processi di combustione e di natura industriale, è abbastanza, vedete, virtuosa, a differenza di altri paesi europei, se non la concentrazione di nuovo nel Donbass, ma di nuovo perché abbiamo di nuovo tutta questa grossa concentrazione di impianti industriali, industrie estrative. Questi sono tematismi che ci fanno vedere invece la concentrazione di PM, questo se non sbaglio sono due e mezzo, cioè particelle molto piccole, che sono quelli da cui noi a Torino siamo particolarmente abituati perché splaffoniamo per un sacco di giorni, vedete come si distribuiscono, di nuovo si distribuiscono tutta nella parte orientale, vedete che quindi questa condizione in cui c'è una zona che è quella fondamentalmente contesa, che comunque anche è fortemente compromessa anche dal punto di vista ambientale e questo è vero anche se andiamo a vedere i PM10, vedete che i PM10 sono di nuovo tutti concentrati in quella zona lì, ma questo risulta abbastanza ovvio, però stiamo parlando di zone che già presentano un problema non banale. Questo invece è un qualcosa che conosco abbastanza bene perché mi è capitato di lavorarci, oggi, questa è la zona di Chernobyl, cioè quindi vecchia centrale nucleare eccetera eccetera, questo non riguarda assolutamente la guerra, questo è uno dei servizi che vengono gestiti da Copernicus, in particolare quello che si chiama Emergency Management, nel senso che nel 2020, sapete che Chernobyl è una zona off limit per svariate decine di chilometri, anzi adesso i soldati russi che sono stati lì ne subiranno delle conseguenze non banali ma probabilmente non erano assolutamente preparati a gestire questa situazione, nel 2020 il servizio di Emergency Management della Commissione Europea lanciò un allarme perché nei boschi intorno a Chernobyl ci sviluppò un grossissimo incendio boschivo che quindi lambendo la centrale venne è considerato assolutamente da tenere d'occhio e la centrale vedete nel bacino del Pripyat che è questo fiume che ci arrivava anche per raffreddare fondamentalmente i reattori, vedete che quello circondato da tutta la parte bianca l'impianto è abbastanza grande, adesso c'è questo sarcofago che chiude il reattore che era esploso, tutta la zona rossa è la zona bruciata, per cui questa roba è già successo, questo incendio è già successo, si è tenuto a bada, per cui sicuramente quello che volevo rappresentare con questi dati che come dicevo non riguardano assolutamente la guerra, riguardano un qualcosa che probabilmente è di natura naturale, cioè un incendio che in qualche modo si è propagato per varie ragioni, però ci pone attenzione sul fatto che come dicevamo prima l'Ucraina abbia un certo numero di centri nucleari, 5 in particolare, di cui alcune molto grandi e questa particolarmente complicata dismessa in cui c'è quest'area che è particolarmente sensibile, come tutti possiamo immaginare. Così come quali saranno fondamentalmente le eredità che abbiamo? Questo è un esempio di come vicino a Mariupol vedete quell'infrastruttura, ci sia il ponte documentato da un satellite che è stato abbattuto probabilmente direttamente dagli ucraini per evitare che arrivassero le colonne di armati russi, però il problema che si porrà è quello della ricostruzione, per cui la ricostruzione imporrà degli investimenti colossali di cui molte delle risorse che l'Ucraina produceva ed esportava saranno fondamentalmente contingentate per la ricostruzione del paese. Quando prima giusto per aneddoto parlavo dell'olio di girasole e di cui l'Ucraina è il principale produttore al mondo, considerate che già adesso molti dei produttori dei biscotti che mangiamo a pranzo stanno prendendo in considerazione di riutilizzare l'olio di palma, perché c'è uno shortage di questo olio, per cui attenzione che dal punto di vista, indipendentemente dalle conseguenze che se ne possono avere per la salute, di cui non so nulla e non vorrei parlarne, però considerate che l'olio di palma vuol dire coltivazione in zone tropicali in cui vengono disboscate intere foreste per impiantare olio di palma, per cui questa cosa avrà un effetto non nella prossima stagione agricola, perché considerate che poi quest'anno la stagione agricola di Ucraina sarà persa. Io ieri per la prima volta ho visto un servizio al telegiornale in cui si facevano vedere due anziani che procedevano a seminare le patate, perché dicevano che in ogni caso dobbiamo sfamare le truppe, però nessuno ovviamente adesso sta pensando a seminare, perché è impossibile, per cui la stagione sarà persa, ma non è che il prossimo anno riusciranno a rimpiazzare tutto, ci vorranno almeno 3-4 anni per ritornare al contingentamento prima, quindi questi effetti avranno un'onda estremamente lunga, così come avrà un'onda molto lunga il fenomeno del fatto che finalmente, grazie al cielo, dico anche, le frontiere si sono aperte e entrano qualcosa come, questi erano i dati di qualche giorno fa, sono notevolmente aumentati, degli immigrati, per cui finalmente l'Unione Europea è riuscita a aprire le frontiere, abbiamo accolto tutti gli immigrati eccetera eccetera, però è molto probabile che una buona parte di questi immigrati poi alla fine si fermi giustamente nei paesi in cui è andata, anche perché è molto probabile che prima di poter ritornare passeranno vari anni, ci sono dei paesi completamente distrutti, quindi la legacy, l'eredità che avremo è quello di avere una politica di integrazione di queste persone, io non vorrei essere pessimista, però essendo un italiano non sono così convinto che sia una cosa così facile, nel momento in cui finirà un giorno questa guerra, spero bene, finirà e spero il più in fretta possibile, si dovrà parlare di integrazione, queste persone non potranno magicamente rientrare subito e molti probabilmente non lo vorranno fare, anche perché forse neanch'io lo farei se fosse nelle loro condizioni, perché nessuno mi garantisce il fatto che non possa risuccedere a breve, per cui tutto questo problema di integrazione è un problema che è una grande sfida che siamo contenti di poter portare avanti, ma sicuramente implica uno sforzo che non è assolutamente banale, che deve essere coordinato e gestito non dai singoli paesi, ma sarà una delle grandi sfide dell'Unione Europea. Quindi questo è quello che ci aspetta, non so, francamente qualcuno mi dice come finirà, non lo so, non so come finirà, probabilmente finirà con un riconoscimento del Donbass e di questa regione probabilmente allargato, però ovviamente la situazione non potrà tornare come prima e questo è un problema che vivremo direttamente anche noi, perché per esempio i rapporti precedenti non torneranno come prima e quando Giovanni la prossima volta ci parlerà del problema energetico sicuramente cambia l'ordine mondiale da questo punto di vista, nel senso che non è più possibile pensare a una transizione energetica così come l'abbiamo pensato adesso, in cui elettrificare tutto dal momento in cui tutto era basato per esempio sul gas e sul petrolio e questo probabilmente non è più possibile, bisogna ripensare tutto.